In Abruzzo nel 2014 sono stati raccolti in modo differenziato 16.000 tonnellate di plastica, ovvero 12 chili a cittadino, e i comuni e società convenzionate sono stati riconosciuti oltre 4,6 milioni di euro dal Coreple, il consorzio nazionale che si occupa di raccolta, riciclaggio e recupero di imballaggi in plastica. I numeri sono stati resi noti nel corso del convegno che si è svolto oggi al Palazzetto dei Nobili all'Aquila e che Coreple ha organizzato per illustrare il nuovo allegato tecnico a cui i comuni dovranno attenersi. Il dato abruzzese, come detto 12 chili pro capite, è al di sotto della media italiana che è di 14 chili, ma va detto che ad alzarla ci sono regioni come Veneto, Lombardia e Piemonte che arrivano anche a 18-21 chili pro capite. Diamo un numero che sono circa 12 chili per abitante pro capite con una media nazionale dei 14, quindi secondo me c'è ancora un po' di spazio di crescita. La raccolta differenziata della plastica conviene sia alle amministrazioni che alle economie italiane è stato poi ribadito. La plastica abruzzese ad esempio viene stoccata in buona parte nell'impianto Metalferro di Castelnuovo-Vomano, dove viene pulita e separata per tipologie e poi venduta all'asta come materia prima alle aziende produttrici, al costo che va dai 200 ai 400 euro a tonnellata. Un prezzo molto vantaggioso rispetto alla plastica e l'Italia deve in buona parte importare dall'estero. Allora la filiera essenzialmente è questa, il cittadino fa la raccolta differenziata, questo materiale viene portato presso degli impianti, viene separato perché noi parliamo di plastica, in effetti dovremmo parlare di plastiche, perché le plastiche sono una diverse dall'altro e questi impianti di selezione hanno il compito di dividere i vari tipi di plastiche. Vari tipi di plastiche, le bottiglie, il film, plastiche miste e poi vengono vendute a delle aste e vengono avviati ai riciclatori che le ritruitano, li filano. Alla fine cosa avviene fuori, perché il cittadino vuole sapere che cosa avviene fuori, possono venire fuori dei pile, delle magliette, possono venire fuori oggetti, pezzi di macchine, pezzi di automobili, le moquette delle nostre macchine sono quasi tutte fatte da pieti riciclato, quindi varie cose di cui oggi noi ci viviamo dentro e magari non lo sappiamo.